Le ACLI spengono tanta candeline. L'associazione, nata nel 1944 quest'anno, taglia infatti questo importante anniversario celebrato con un ricco programma di iniziative, dove saranno proposti incontri e convegni dedicati ai temi dell'economia, della storia, dell'educazione, del lavoro e della geopolitica. Abbiamo ovviamente un orientamento preciso, che i nostri fari sono la dottrina sociale della Chiesa, la democrazia, la Costituzione, il mondo del lavoro, però credo che quando si affrontano tematiche di alto livello dobbiamo contribuire a dare una informazione, una pluralità di informazioni in modo che il cittadino poi possa farsi la propria opinione. Il nuovo anno, come consuetudine, ha preso il via con l'apertura della campagna di tesseramento identificata con lo slogan Ci siamo per. L'anno 2023 è chiuso con 3.600 soci circa, quindi un incremento quasi del 10% rispetto all'anno precedente. Il contributo e il ringraziamento principale va quindi ai circoli del territorio, che sono il vero fulcro delle Acli. Sono quella sentinella nel territorio che senza i quali quella località, quella frazione sarebbe molto più povera. La nuova tessera, valida sino al 31 dicembre, darà diritto alla fruizione di alcuni servizi del sistema eclista, tra cui lo sportello Famiglia. Abbiamo da qualche anno, da un paio d'anni, creato lo sportello Famiglia, grazie all'impiego di ragazze del servizio civile e questo sportello è volto a dare un contributo e un supporto ai cittadini verso quelle pratiche, quei servizi della pubblica amministrazione che necessitano di una conoscenza digitale almeno minima. Grazie. Grazie.